Ben ritrovati a Caritas Insieme. Alcune settimane fa avevamo dedicato una puntata al finanziamento delle organizzazioni non governative e degli enti socioassistenziali. Questa sera abbiamo il piacere di avere come ospite Pier Giorgio Tami che di ONG se ne intende da più di 20 anni attivo in Asia e da 11 anni dirige il progetto Agar a Phnom Penh in Cambogia. Recentemente per il suo lavoro ha ricevuto anche due importanti riconoscimenti, uno dal governo degli Stati Uniti per il contributo alla lotta contro il traffico di bambini ricevuto dall'ex segretario di Stato Colin Powell e dalla fondazione Schwab di Klaus Schwab, l'organizzatore del World Economic Forum di Davos. Io partirei proprio da questo ultimo premio che ti è stato dato come imprenditore dell'anno con una battuta provocatoria, perché un responsabile di una ONG come la tua è invitato a Davos, al World Economic Forum e non al World Social Forum di Porto Alegre. Mi relego molto di questa possibilità che il World Economic Forum mi ha invitato proprio per partecipare a questo incontro di discussioni e proprio anche per presentare la particolarità del nostro lavoro, del lavoro di Agar che sta facendo in Cambogia da 11 anni, noi possiamo mostrare questo approccio innovativo con un ritorno sociale e economico, proprio per questo c'è stato un interesse, appunto il fatto che siamo stati riconosciuti come imprenditori sociali e così ci ha dato questo biglietto di entrata al World Economic Forum. Ecco, mi sembra che anche voi lavorate per un mondo migliore come i cosiddetti alter mondialisti, però rispetto a loro invece di andare nelle piazze vi siete rimboccati le maniche e avete portato avanti un pensiero diverso, ci vuoi poi magari illustrare questo tipo di pensiero che sta dando dei frutti e anche riconosciuti a livello mondiale? Certamente, come ho detto in diverse occasioni, il nostro impegno dalla parte della nostra famiglia come dei nostri collaboratori, basati proprio sulla fede cristiana, ci permette di essere proattivi e ci permette di cercare di servire questi popoli, queste genti che vivono non soltanto dalla povertà fisica, ma proprio nell'ingiustizia, che soffrono veramente di queste situazioni molto, molto tragiche che poi danno adito alla povertà, alla mancanza del riso, alla mancanza dell'acqua e delle infrastrutture. Quindi siamo stati innovativi nel cercare di porre fine a queste situazioni. Penso che a mio modo di vedere queste persone, queste genti del Paese del Terzo Mondo non vogliono carità, ma vogliono un'opportunità e quindi abbiamo cercato di dare queste opportunità, sia di raccogliersi, di poter entrare in un centro dove possono essere protetti, tirare il fià e poter così ricominciare di nuovo, come pure avere una possibilità di lavoro perché dà loro una dignità e questo è molto, molto importante per loro. Come nasce questo vostro pensiero? Nasce da 20 anni di esperienza o era già innato prima nella tua persona e nella tua famiglia? Forse l'attitudine, il desiderio di voler portare un aiuto al prossimo, questo ha internalizzato sia da parte di mia moglie ed io quando siamo partiti esattamente il 30 di gennaio dell'82, proprio festeggiamo questi 23 anni in Asia, però non avevamo un'idea chiara di cosa volevamo fare, quindi abbiamo investito molto nel cercare di capire le situazioni, nel cercare di fare dei sondaggi, delle ricerche per permetterci esattamente di conoscere queste persone e poi servirle, un'attitudine di servire questi e questi popoli e questa attitudine ci dà questa creatività di poter cercare nuove soluzioni. Questo vostro pensiero, questo vostro modello di lavorare in collaborazione anche con altre strutture, pensi possa essere applicato a delle altre ONG che magari lavorano con metodi diversi? Io penso di sì, chiaramente sta alle organizzazioni di ben valutare le proprie strategie, le tattiche di coinvolgimento, siamo adottati come modello dalla Banca Mondiale, da Washington e facciamo anche un po' da ponte, nel poter parlare a altre organizzazioni, condividendo la nostra esperienza, condividendo anche l'esperienza positiva di enti internazionali e istituzioni internazionali proprio come la Banca Mondiale, nel voler incoraggiare altri a poter guardare questo modello, valutarlo e magari impegnarsi proprio perché queste istituzioni tendono il braccio, la mano aperta dicendo vogliamo lavorare assieme, questa è una parte positiva e lo si fa anche a livello formale dove per esempio in Cambogia ci sono delle riunioni, dei forum, di organizzazioni con dei gruppi anche commerciali che operano in Cambogia e viene usato il nostro modello proprio per intavolare discussioni e così invogliare nuove organizzazioni a voler considerare questo modello e considerare anche un sostegno che è lì pronto, questa mano è tesa verso di noi per aiutare a conseguire gli stessi scopi, la riduzione della povertà. Entriamo ancora maggiormente in quelle che sono le attività pratiche del progetto Agar che ha come filosofia la riabilitazione, la prevenzione e la reintegrazione, come riuscite a conciliare questi tre fattori in un mondo che presumo abbia comunque anche delle difficoltà culturali da affrontare. Questi tre pilastri dell'organizzazione chiaramente contengono delle situazioni molto complessive, politiche, sociali, economiche, spirituali, quindi c'è sempre un'attenzione nel voler conseguire questi risultati, stiamo ancora lavorando per cercare di poter riuscire con una ricetta, un modello che sia poi replicabile, questo è sempre una sfida per noi, vediamo dei progressi, vediamo delle aree dove abbiamo sbagliato, fallito, abbiamo delle aree deboli dove riusciamo proprio attraverso questi governi o internazionali a ricevere anche il sostegno per migliorare e conseguire un modello che funzioni. Dalla parte del governo cambogiano per esempio si registra una buonissima reazione positiva, dove ancora non riescono a capire come mai secondo la loro visione della società una mamma della strada o una ragazza che esce dalla prostituzione non ha chance, è la casta più bassa, ha un pronome neanche di persona come viene usato in italiano, vengono usati dei pronomi per delle cose e anche la lingua stessa ci forza a usare delle parole per queste persone, per una mamma della strada o per delle ragazze che escono dalla prostituzione a usare dei verbi, delle parole che vengono usate soltanto per esempio per gli animali, quindi questa concezione dove per loro mettono mamma, bambini, ragazze della prostituzione alla casta più bassa, quindi nessuna speranza, ora vedono che producono il latte di soia migliore della Cambogia con delle macchine, con una tecnologia modernissima, produciamo dei prodotti di seta dove il governo giapponese che ha degli standard di qualità molto molto alti nel mondo, ci ha dato proprio un riconoscimento per la miglior qualità e disegno del 2004, abbiamo delle donne che sono uscite dalla prostituzione, oggi cucinano un hotel Raffles di 5 stelle o un hotel intercontinental e non riescono a concepire, come mai? Cos'è che capita? che è un momento, nella mia concezione queste donne varano niente, come animali, ora non solo hanno un comportamento così medio, della gente media, anzi eccellono, anzi sono degli ambasciatori di una nuova Cambogia all'estero, dove all'estero Tokyo, Londra e New York comprono questi prodotti e dicono che bella qualità, che che fai? Il governo non riesce ancora a capire come siamo riusciti a conseguire questo, nel nostro lavoro non solo si lavora, si lotta contro l'ingiustizia, si lavora per aiutare questo gruppo particolare della società che è dimenticato, che è abbandonato, ma facciamo anche una campagna di educazione a una società nuova e ha un governo che chiaramente ha dei grossissimi problemi di corruzione e di ingiustizia e di stabilità politica e questo vediamo un buon impatto anche che Agar riesce a fare in Cambogia e anche all'estero. Tu hai citato alcuni dei lavori, dei progetti che avete a Phnom Penh, il latte di soia è forse il fiore all'occhiello dell'imprenditorialità del progetto, ci puoi brevemente descrivere cosa fate? Sostanzialmente abbiamo una fabbrica di bevande che poi al momento si sta concentrando nella produzione di pacchetti di latte di soia di circa 2 decilitri, stiamo ora proprio in questi giorni sviluppando dei nuovi prodotti, stiamo diversificando in modo di far lavorare la fabbrica maggiormente e stiamo facendo dei prodotti di succhi di frutta, come pure sono andati proprio a Davos il primo giorno già esponendo un nuovo progetto e veramente me ne rallegro come nei miei incontri a Davos ho proposto questo nuovo sviluppo di un latte di soia fortissimo, fortificato con tutte le vitamine, quindi ho parlato a delle ditte grosse leaders nel campo della nutrizione, come pure la ditta che produce questi pacchetti e ho proposto loro di coinvolgersi con noi per sviluppare questo prodotto, per combattere la malnutrizione in Cambogia che è uno dei più grandi problemi che abbiamo, perché il 50% dei bambini sono malnutriti e abbiamo l'indice di malnutrizione più alto in tutta l'Asia e secondariamente per usarlo nei programmi di nutrizione nelle scuole, perché è la chiave per l'educazione delle ragazze, l'organizzazione moderna, i governi e istituzioni internazionali vogliono che si aumenti questo coinvolgimento nell'educazione delle ragazze, delle bambine, perché non vanno a scuola e quindi ho proposto dal giorno 1 questa iniziativa, se noi riusciamo a mettere nelle mani di una ragazza un pacchetto di latte di soia fortificato, prima di tutto viene a scuola, poi la teniamo a scuola e abbiamo un impatto dal punto di vista di nutrizione e in più attraverso questo programma vengono poi emanati comunicati dei programmi educativi, dei messaggi proprio antitraffico dei messaggi di educazione, di nutrizione e è interessante che domenica mattina quando si è a Davos si è riuniti per vedere cosa abbiamo deciso, sugli schermi cosa è apparso? Nella lista delle decisioni è più difficile che i dirigenti internazionali devono ora impegnarsi, al numero 4 appare educazione e cosa appare in educazione? Programmi di educazione per ragazze e una strategia proprio questo dell'alimentazione attraverso dei school feeling program, si chiamano i programmi di nutrizione nelle scuole, è fantastico, proprio vedere come una piccola iniziativa che abbiamo noi, che ci crediamo, stiamo sviluppando, esce proprio nello grande schermo e Davos si impegna proprio verso questo. Sicuramente è una bella soddisfazione, un altro progetto è quello della produzione tessile di articoli vari, questo a che punto è? Appunto che stiamo ora valutando delle nuove possibilità, abbiamo ingaggiato un nuovo designer per cercare anche di diversificare un po' anche i prodotti perché in diversi paesi viene apprezzato un prodotto più che un altro, è anche interessante che abbiamo potuto finalmente incontrarci con l'attrice Angelina Jolly che si è interessata molto genuinamente, sinceramente del problema del traffico delle donne e con lei svilupperemo dei prodotti che lei ci aiuterà a promuovere negli Stati Uniti per poter chiaramente aumentare le vendite e così possa aumentare i posti di lavoro perché dietro stanno i nostri programmi di educazione e formazione professionale, insomma c'è di doni che ha bisogno della posta di lavoro e il governo americano ci ha aiutato proprio in questo ambito quest'anno finanziando questi programmi di formazione come l'ha fatto ABBA e il governo svizzero in questi tre anni per aumentare i posti di lavoro, quindi una nota molto positiva. Un marketing a tutto campo si potrebbe dire, avete anche delle strutture di accoglienza per handicappati, in questo caso cosa fate? Abbiamo appunto un programma per sei bambini handicappati e abbiamo così voluto girare questo programma, girarlo nel senso principalmente come si sa questi programmi sono programmi istituzionali quindi molto difficili da sostenere finanziariamente, la gente non è, i donatori principalmente non sono interessati a cose così perché devono continuamente essere sostenute finanziariamente, però abbiamo fatto un buon lavoro con questo dirigente cambogiano, anche lui del resto è handicappato che con dei programmi innovativi ha fatto un programma prima di tutto di sensibilizzazione nella città e invitando bambini handicappati a venire al nostro centro, non è capitato da ogni angolo, venivano letteralmente, abbiamo i bambini che erano stati letteralmente tenuti con le catene attaccati alla parte dietro della casa insieme ai maiali, questa è la condizione di questi bambini che erano nascosti là e facendo questo programma di sensibilizzazione, mettendo tutti i nostri bambini handicappati su delle sedie a rotelle, facciamo come un treno, passando nella città, sensibilizzando, parlando alle persone, ha invitato questi bambini, queste famiglie a poter portare i bambini al nostro centro, così possono essere ben accuditi, possono essere ben aiutati anche dal punto di vista terapetico, le persone ora hanno perso questa vergogna che avevano da tempo e possono andare al mercato a lavorare, a vendere e noi guardiamo questi bambini, questo è un programma che non solo è adibito ai nostri sei bambini né mai, viene fatto nel contesto della comunità, del villaggio e veramente si sta sviluppando in un modo positivo. Dunque un discorso educativo anche rispetto a questa problematica. Torniamo in Svizzera, ABBA sta facendo parallelamente un discorso qui da noi, ad esempio sulla promozione dei prodotti per un vero commercio, una vendita e non un acquisto così per sostenere bonariamente un'associazione. Tu hai l'impressione che in Occidente questo discorso venga recepito? Penso di sì, di natura sono ottimista, quindi vedo sempre le parti positive e bisogna lavorare su questa parte positiva. ABBA ha fatto come sapete un lavoro grandissimo in questi anni proprio nel promuovere questi prodotti qui in Ticino, la vendita qua in Ticino è molto molto alta, quindi abbiamo visto che anche le persone che comprano proprio che il prodotto è buono e di buon uso, quindi si compra qualche cosa non di superfluo, ma di qualche cosa che serve e che ha un buon prezzo e ben fatto, nel contempo si sostiene una ditta con delle responsabilità sociali e quindi questo vedo che c'è un maggior interessamento da parte dei consumatori nell'Occidente, particolarmente qui in Ticino, penso che è un'esperienza positiva che ABBA ha fatto. Veniamo in conclusione a un aspetto magari più personale, gestire un progetto come il vostro sicuramente implica grandi forze, grande disponibilità e flessibilità, come riuscite a conciliare la vita di famiglia con la vita privata, con un progetto di questo tipo? Si tratta principalmente di una vocazione e quindi siamo molto appassionati a quello che facciamo, ci crediamo molto e diamo tutto quello che possiamo dare, quindi per via delle pressioni anche che qui giù in Cambogia, che intaccano la qualità del lavoro, ad esempio la sinistabilità politica, la corruzione che sempre la troviamo da mattina a sera e specialmente anche delle pressioni violente fatte verso le persone con cui lavoriamo o verso coloro che si adoperano per combattere l'ingiustizia e quindi siamo confrontati dai grossi rischi, questo ci sollecita molto a livello emotivo e psicologico e a lungo tempo stracca, dice ma anche a livello logora, a livello psicologico e emotivo come ho detto, non è facile appunto avere, non è che si ha una grande vita privata qualitativa perché c'è poco o niente da fare per un pen, però pensiamo a una grande forza attraverso la nostra fede in Dio che ci permette proprio sempre di guardare con ottimismo il futuro, malgrado le situazioni siano alle volte peggiori o appunto questo logorio che intacca verso di noi, anzi abbiamo festeggiato 10 anni di lavoro l'anno scorso e abbiamo cominciato così a avere delle visioni a livello così internazionale, al di fuori della Cambogia e questo ci motiva sempre di più a voler così adoperarci per combattere l'ingiustizia, per combattere la sofferenza, per combattere la povertà e attraverso i sostegni che riceviamo, vedendo appunto come il Ticino si muove in un modo molto positivo in questi anni, questo c'è molto di incoraggio appunto attraverso il lavoro fatto di Abba, vedendo appunto le persone, famiglie o amici che ci incoraggino, ci stimolano, questo è molto importante per noi. Io faccio gli auguri a Pier Giorgio Tami per il suo lavoro, a lui e la sua famiglia anche da parte di Carita Sticino, lo ringrazio per la sua presenza qui da noi, a voi do appuntamento settimana prossima dove parleremo ancora di bambini, i bambini soldato, avremo come testimonianza quella di un ex bambino soldato e di una rappresentante di Amnesty International Italia, grazie e arrivederci. Grazie a tutti!